Ivex 2017, ci troviamo a Roma e siamo al mini stand della N&W che ha un po' di prodotti da presentare. Siamo in compagnia di Francesco Frova che ritorna dinanzi alle nostre telecamere dopo un po' di tempo per questa intervista in pillole. Tre minuti, tutti per te. Come mai siete qui? Che cosa presentate? Grazie Fabio, è un piacere ritrovarti con la tua precisione presenza. Oggi siamo presenti a Ivex come evento internazionale, quindi affianchiamo Confida ed Eva in questo appuntamento annuale che sta diventando sempre più importante e con dei livelli di presenza ancora più importanti degli anni precedenti, quindi la formula si dimostra essere estremamente efficace. Noi siamo presenti oggi con una veste nuova, la prima volta ci presentiamo con i nuovi marchi recentemente entrati nel gruppo e questo mini stand, hai detto benissimo, è veramente un mini stand perché abbiamo una selezione della selezione. Abbiamo la presenza di un prodotto Saeco, Aulica, quindi una piccola macchina per lo CAS e il piccolo RECA. Abbiamo un prodotto che vediamo qui dietro di noi che è un prodotto faro nella gamma nostra RECA che è Crea, qui in versione touch, che è quindi un prodotto che stiamo lanciando sul mercato, che si appoggia alla nuova elettronica di base del gruppo, quindi con tante novità da un punto di vista di gestione della macchina, abbinato ad un touch che permette un'interfaccia utente più facile, più moderna, molto più varia nelle selezioni, qui con un vano anche erogazione ampliato proprio perché ci rivolgiamo principalmente al settore delle prime colazioni e delle RECA in genere. La terza macchina, proprio perché lo stand è molto piccolo, è Opera, che è un nostro prodotto vending apprezzatissimo sui mercati internazionali anche e molto in Italia. Qui l'abbiamo nella nuova versione touch, quindi con un'elettronica all'interno completamente ristudiata e moderna, un touch di ultima generazione, quindi tutta quella che è l'attività sia di esperienza utente finale e del tecnico, permettono, grazie a queste nuove tecnologie, una modalità di utilizzo della macchina molto più semplice, friendly, veloce e vario. La macchina all'interno ha anche il sistema di telemetria sul quale stiamo lavorando molto perché crediamo nella connessione in remoto delle apparecchiature vending e quindi al nostro sistema di telemetria che permetterà una connessione, un collegamento con la macchina sia da un punto di vista tecnico ma anche di attività marketing a bordo che è estremamente all'avanguardia e che secondo noi sarà un'asse di sviluppo importantissimo per le tecnologie future. Bene, e allora sei riuscito a riassumere in tre minuti ciò che era necessario dire agli amici che sono dall'altra parte, abbiamo ristretto i tempi quanto più possibile proprio per garantire uguale spazio a tutti, dobbiamo cercare di intervistare tutti oggi, Francesco grazie, noi ci rivediamo certamente a Venditalia 2018. Vi aspettiamo e saluti a tutti i telespettatori. Grazie a te, amici non andate via perché noi nel frattempo proseguiamo qui a IVEX 2017.